Siamo appena rientrati da Roma, qui accanto a me c'è l'avvocato Taibi che mi ha accompagnato come rappresentante esponente del FAI, abbiamo avuto un incontro con il presidente nazionale del FAI Marco Magnifico, due gli argomenti trattati, andati a buon fine, finalmente sono iniziati i lavori al collegio dell'ex Filippini dove verrà realizzato il museo di città, il museo di città è un progetto realizzato dal FAI, quindi era doveroso andare a incontrare il presidente nazionale per renderlo partecipi di quello che noi stiamo facendo grazie anche un progetto che la dottoressa Bruno aveva realizzato e che adesso si inizia a concretizzare, grande apprezzamento da parte del presidente nazionale, si è reso disponibile per accompagnarci in questa avventura, quindi sarà presente anche al ministero, capite bene il FAI che appoggia la candidatura di Agrigento, ci sono anche le altre 14 città che si candidano, avere quindi al nostro fianco un esponente di un livello culturale così grande, mi sembra doveroso esternarlo e comunicarlo anche alla mia città. Avvocato Taipi, il FAI tipo Agrigento? Certamente, noi siamo stati nel 2015 i primi a proporre a quel tempo la candidatura a Capitale Italiana della Cultura e siamo lietissimi che il sindaco Micichè la porti avanti, speriamo di essere fortunati, stiamo lavorando tanto e quindi avere incontrato il FAI, anche in particolare il presidente magnifico lì a Roma, è stata un'opportunità per ribadire l'interesse del FAI a sostenere questa candidatura. Il museo di città si farà? Il museo di città si farà, anche questo è un motivo di grande soddisfazione perché era un progetto redatto peraltro da Daniela Bruno che adesso dirige la struttura per la parte culturale, Daniela Bruno era presente come era presente con noi anche l'assessore Principato e finalmente abbiamo trovato una soluzione per il quale il comune farà con l'aiuto del FAI, realizzerà questo progetto e quindi per la città sarà un'occasione importante perché verranno raccontati 2.600 anni di storia, noi immaginiamo che partendo da qui il visitatore possa conoscere questa importantissima storia e poi possa girare un po' la città, quindi non soltanto la valle e questo è importante anche ai fini del capitale e della cultura perché credo che tra i progetti dell'egrigento capitale questo sia uno dei più interessanti.